Laura Magic Horse Show è un'artista esperta con il pubiculum invidiabile, si è esimita anche davanti a Papa Francesco, con i suoi cavalli ha un feeling straordinario e già in passato è stata tra i protagonisti del Galadoro. Con Ares accompagnata dal corpo di ballo Galadoro ci propone un quadro ispirato a Van Gogh. Per Vincent Van Gogh la notte rappresenta il momento di massimo confronto tra l'uomo e l'infinito. L'oscurità per Van Gogh immensa si trapunge però di stelle, sorge la luna, l'astro degli innamorati che splende su tutto e avvolge in questo manto di tenebre con scie di giallo come la sede. Nasce così il celebre dipinto Notte Stellata ed è ispirato a questa notte che abbiamo immaginato un bianco cavallo luminoso come la luna, brillante come le stelle. La scurità per Van Gogh La scurità per Vene La scurità per La scurità per la scurità per la scurità di gioia con il amore. Grazie a tutti